Buonasera a tutti, non c'è che dire Borsa Italiana si diverte a complicarci la vita perché anche oggi abbiamo imparato una novità, perché fino a che non c'è stato il passaggio alla piattaforma Optic la gestione dello stacco di dividendi era molto lineare in quanto tu compravi un titolo anche l'ultimo giorno utile, in questo caso venerdì, la mattina del lunedì in apertura partivi dal riferimento di venerdì per cui quando un titolo aveva uno stacco importante era facile che ci fossero delle aperture in gap down e graficamente peraltro questi gap li vediamo soprattutto su Stellantis che è stato un dividendo piuttosto importante per fare il primo esempio concreto che mi viene in mente, ma soprattutto avevamo una variazione negativa che era causata principalmente dallo stacco. Avendo trovato invece come riferimento quello di venerdì già depurato dello stacco, oggi molti titoli che se guardiamo un grafico avrebbero chiuso negativamente come variazione risultano sulle piattaforme di trading ma anche su Borsa Italiana come titoli che hanno avuto un andamento positivo, tant'è che il titolo migliore di tutto il listino italiano oggi risulta essere Stellantis quando invece ha avuto una variazione abbastanza negativa e tra poco lo vedremo. Prima di iniziare volevo ringraziare alcune persone facenti parte della nostra community che mi hanno scritto privatamente a infochiocciola andrea cartisano.it ringraziandomi per essere presente anche oggi e sottolineo io anche domani quando invece molti miei colleghi non hanno pubblicato video perché c'è il ponte del 25 aprile. Io come vi ho già spiegato più volte devo vivere di trading perché è la mia fonte principale come introiti per cui quando il mercato è aperto a meno che non abbia degli impegni improrogabili cerco di esserci sempre. A questo proposito visto che lo ricordo veramente poche volte mi farebbe piacere che la nostra community crescesse ulteriormente e per fare questo le persone che vedono questi video per la prima volta o persone che non hanno ancora fatto potrebbero iscriversi al canale condividere i contenuti che vengono pubblicati quotidianamente e mettere il famoso like se questi contenuti vengono apprezzati. Non perdiamo però ulteriore tempo e cominciamo come nostro solito dagli indici americani e partiamo dal Dow Jones. Io vi ho già ribadito più volte il pensiero che ho sull'indice americani per il breve. Vedo un consolidamento. Soprattutto il Nasdaq mi sembra che sia un po' più fragile. Comunque il livello chiave per il breve periodo è 33.586 per il Dow Jones. Sotto questo livello si va fino alla media mobile a 100, 33.372 e poi 33.245. Standard & Poor's 500 livello chiave 4.099 sotto abbiamo sì un'area di supporto intermedia a 4.070 ma più realisticamente si dovrebbe tornare a 4.056. Lo chiarisco fin da subito. Sono livelli che io vedo come correzione e non inversione per scaricare di per comprato su indicatori e oscillatori. Nasdaq. Nasdaq il livello più importante per il breve è 11.898. Sotto questo livello avremo un primo target a 11.823 e poi la chiusura del gap è stato aperto a 11.635 sul massimo del 28 marzo scorso. DAX è in laterale sui massimi di periodo, oggi fa un massimo a 15.919 ma adesso è rientrato e si trova a 15.864, in questo caso il livello più importante per il breve è 15.706, sotto questo livello avremo 15.675, 15.668 e poi 15.625. Questa statica, questo supporto statico che vi ho tracciato è addirittura a 15.482 di minimo. CAC continua a stare sui massimi storici, però anche qui comincio a vedere una divergenza per esempio ribassista su RSI e considero che sia possibile un consolidamento con primo target, direi area 7.500, e poi 7.450. Eurostox è in laterale strettissimo da 7 sedute, il livello che non deve perdere 4.363, sotto questo livello con ovviamente supporti intermedi 4.334, 4.312, il target comunque può essere fino a 4.278. L'Eurostox è in fase correttiva di breve, non deve perdere 106.07 per evitare un ritorno a 104.55. Adesso veniamo al nostro Fuzzi Mib Futures. Per quanto riguarda il nostro Fuzzi Mib, c'è da dire che siamo come per i principali indici europei in una lateralità piuttosto definita, il livello più importante per il breve è 26.975, poco sotto una decina di punti circa abbiamo anche la media mobile a 50, quindi 26.840 e chiusura gap 26.825. Adesso veniamo ai titoli migliori di giornata sul nostro Fuzzi Mib. Vi faccio vedere anche la pagina di Borsa Italiana, questa è quella dei volumi, scusate ci sta oggi, una giornata pre-festiva 1.844.000 a rotondo, vedete che Borsa Italiana riporta, come vi ho detto, le variazioni migliori per Stellantis e Unicredit che hanno staccato dividendo, anche Banco BPM scusate, e il problema in questi casi è che purtroppo se poi andiamo a vedere un grafico, cominciamo pure da Stellantis che è il primo titolo che dovevo farvi vedere, in realtà abbiamo una variazione negativa del 6.31% perché c'è ovviamente lo stacco e la stessa cosa, adesso l'analizziamo in dettaglio, l'abbiamo per Unicredit che c'è una variazione del 3.40. Comunque Stellantis io in ogni caso la vedo ancora potenzialmente a ribasso, target potrebbe essere 14.558, minimo del 2 di febbraio, e poi in media mobile a 200 14.397, ovviamente c'è il gap lasciato aperto a 15.71 che è il gap da stacco dividendo. Poi abbiamo detto, prendiamoli magari un attimo da qui, secondo titolo migliore del Fuzimib Banco BPM, però anche qui vedete che in realtà è un meno 3.33 perché anche qui c'è stato lo stacco. In ogni caso ormai 4.30, 4.35 è area di forte resistenza, può tornarci però in caso di ritracciamento fino in area 3.90, in realtà 3.88 e 2 transit tra media mobile a 50 e chiudere il gap lasciato aperto sul massimo del 14 aprile 3.833, ci può tranquillamente tornare. Poi Tenaris invece bel movimento, devo dire perché ha rotto la trendline ribassista partita dai massimi del 14 di aprile, e per le prossime sedute c'è spazio, come vi ho già detto, per un target di poco inferiore ad area 14, e poi un ritorno sulle medie mobili a 50, 14 e 49 e a 200, 14 e 74. Ferrari fa una bella Marwaz White 250, 254 e 9, in realtà io stento a credere che possa andare nuovamente sopra i massimi storici a 2.61, starai attento al livello di 248.2 perché sotto questo livello si potrebbe tornare fino in area 240. bene anche Enel che ha lavorato un po' in controtendenza rispetto al settore utilities perché tra i peggiori ci sono alcuni titoli appartenenti appunto alle utilities, Enel invece continua a essere ben comprata, ha sfiorato oggi il massimo del 12 di aprile a 6,084, fatto un massimo a 6,073 e il target, ripetisco, è sempre area 6,20. Per i titoli migliori concludo con Biper che è sempre piuttosto forte perché oggi fa un nuovo massimo di breve periodo a 2.76, 1, deve ancora chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del 9 di marzo a 2.78,3 e poi il target rimane 2,859 che è il massimo di quella stessa seduta. Adesso veniamo ai titoli peggiori del Fuzzi Mib 40. Leonardo che vi avevo già anticipato si stava impostando in maniera negativa e oggi ha confermato questa mia ipotesi e per le prossime sedute è possibile un'ulteriore fase ribassista fino alla media mobile a 50, 10,85 e poi fino a questo minimo del 21 di marzo che è 10,51. Nexi, io molto onestamente oggi ho incrementato il titolo in apertura, mi aspettavo già da oggi una prosecuzione a rialzo fino almeno al massimo del 17 di aprile a 7,916 per poi avere un target a 8,148 e media mobile a 200, 8,173. Per questo incremento ho però uno stop sotto 7,51. Debole anche Saipem che non perde però il minimo importante che è quello di 1,34,5 sotto 1,34,5 il titolo può arrivare fino a testare la media mobile a 100 a 1,29,8. Paschi, ve la faccio vedere al volo di qua che non si vede bene ma non riesco adesso a caricare su investing, il livello più importante per il breve è 2,191 che è il minimo di venerdì, sotto avremo 2,127 e poi 2,104. Italgas come vi avevo detto non ha dato un segnale così confortante perché la mia idea è che a questo punto possa andare a rompere 5,86 e mezzo per un primo target a 5,77 e poi in area 5,70. Seduta di correzione di ricordati dopo però il rally incredibile di venerdì da più 5,44, se fossi detentore del titolo sotto 41,3 però io applicherei uno stop profit. Telecom continua a essere piuttosto debole anche se oggi ha perso relativamente poco rispetto a quanto fatto nelle sedute precedenti, io ho sempre un target alla chiusura del gap la sotto aperto a 0,25 e 53. Poi concludiamo con due titoli che attualmente sono fuori dal Fuzzi Mib ma che seguiamo sempre con interesse che sono Saras che mi viene chiesta anche molto spesso e io continuo a dire che al momento non vedo ancora un tentativo di accumulo, oggi ha confermato la rottura della media mobile a 200, 1,24 e 1, non appena avrà fatto base sicuramente sarà un titolo sul quale entrerò. Brunello Cucinelli non ha avuto una variazione così significativa, ha perso l'1,15% ma ha praticamente fatto tutto candela inside, dimostrato che adesso comunque sta facendo fatica a ritornare sui massimi storici a 95, quindi qui sotto 86 particolare attenzione perché primo target 84,15 poi media mobile a 50, 83,4. Concludiamo con due titoli, uno ancora al di fuori del Fuzzi Mib che è Salvatore Faragamo e poi invece ritorneremo ad Iveco, Salvatore Faragamo sta provando a tenere area 16, oggi ha fatto un nuovo minimo di periodo a 16 precisi, però il livello che non deve perdere, che non ha perso è 15,98, quindi mi raccomando sotto 15,98 il titolo darebbe un segnale di uscita, anche in stop loss. Iveco, Iveco oggi fa candela inside, io continuo a vedere il titolo in recupero fino alla media mobile a 50, 8,72 e poi tornare poco sopra area 9. Adesso ci dobbiamo occupare dei titoli al di fuori del Fuzzi Mib, devo partire assolutamente da impianti, qui c'è stata una alzata di target, titolo che il mercato aveva un po' dimenticato, in realtà già venerdì aveva fatto un primo movimento a rialzo importante, oggi addirittura fa più 25% con volumi leggermente più interessanti, di conseguenza può proseguire anche nelle prossime sedute fino direi a, non esageriamo, ma magari 1,62-1,64, se fossi dentro il titolo direi che al momento lo stop profit dovrebbe essere 1,35. Algoat invece c'è stata una notizia price sensitive, il titolo ha scambiato quasi un milione e duecentomila pezzi, può proseguire anche per le prossime sedute fino alla media mobile a 200, 0,69 e poi questo massimo del 23 gennaio 0,71,8. Continuano a essere comprate Redelfi e Solid World, vi ho già detto il mio pensiero, io sto mancando sicuramente dei guadagni potenzialmente molto alti, però stanno salendo oltre quello che fino adesso hanno dimostrato come aziende, addirittura oggi c'è stata una notizia su Solid World che la prima stampante 3D verrà consegnata a settembre, però prendiamo atto del fatto che il titolo, in questo caso torniamo a Redelfi, può arrivare nuovamente sui massimi storici a 2,34. Solid World invece ha fatto un massimo interlay a 6,56, però poi ha chiuso a 6,16, quindi titolo molto volatile, non è escluso che possa proseguire anche per le prossime sedute al rialzo fino a 6,80, però io già sotto il minimo di oggi 5,60 uscirei dal titolo. Poi salto come al solito i titoli che hanno scambiato troppo poco, anche se hanno avuto variazioni importanti come Spindox e Takeoff per esempio, vado direttamente su Farmae che sta confermando la buona impostazione di minimi arrotondati che oggi vede il titolo addirittura in una sola seduta a superare, media mobile a 200, 11,72, media mobile a 50, 12,02, media mobile a 100, 12,096 per un target almeno in area 12,70. Bene anche Altea e non me l'aspettavo perché pensavo che Altea potesse tornare almeno fino a 3,25, adesso sembra che stia provando a fare base invece in area 3,50. Acquisti nella seconda parte di giornata del pomeriggio, nel caso di dire su Size Get Risparmio, per cui un titolo che nelle prossime sedute cercherò e forse in voi cercherei di tenere monitorato perché oggi ho fatto un massimo a 25,8, poi ho acquisito a 25, però può tranquillamente tornare a 26,2 ma anche a 27. Poi si è completato portata piuttosto bene anche da Mico che ha staccato, oggi ha fatto un minimo a 0,38,4 poi ha chiuso a 0,48, io aspettavo il titolo poco sopra area 0,37 per cui sono stato forse un po' troppo conservativo. Is Auto Motion era provato a partire, anche qui c'è la notizia price sensitive, massimo intraday 4,54, poi ha chiuso a 4,39, fortunatamente supera la media mobile a 200 che è 4,37,7, rimane il gap da chiudere a 4,26. Molto interessante anche come si è mossa Open Job perché ha fatto un massimo intraday a 10,7 e poi ha chiuso a 10,3, un altro titolo che è molto interessante da trading per le prossime sedute e veniamo a PowerSort invece oggi, fa addirittura un nuovo massimo storico fatto peraltro con un'asta a rialzo a 7,45, anzi approfittiamone per vedere assieme quante ne sono passate sul massimo storico, è stato un'asta di volatilità, questo ve lo do per certo perché l'ho visto, 5 mila pezzi comunque a 7,45 quindi neanche male, quindi altro titolo da tenere monitorato per le prossime sedute. Poi dobbiamo parlare ancora direi sempre di titoli che hanno scambiato un po' di più perché se no non ha molto senso, direi ancora Eurotech che sta provando a fare una base qui poco sotto area 2,90, vedo il titolo pronto per un movimento direzionale a rialzo, direi primo target media mobile a 200, 3,105 e poi questo massimo del 3 di aprile 3,23. Concludo, sempre una questione di volumi almeno dignitosi, San Lorenzo che fa un tentativo di rottura della media mobile a 50 in tra dei 41,24, poi chiude a 41,05, ha fatto un massimo a 41,45 ma per le prossime sedute almeno fino a 42,30 la vedo. Poi concludo i migliori con Aquafil perché come vi ho già detto sta provando a costruire un importante supporto statico in area 4,70 che è area di triplo minimo addirittura in time frame settimanale e questo è un titolo che può rimbalzare almeno fino poco sopra 5,40. Veniamo ai peggiori e qui devo fare come mio solito anche una missione perché tra i peggiori c'è un titolo che io ho dovuto stoppare in sensibile perdita oggi ed è Alerion ma partiamo da autostrade meridionali. Ha dato questo enorme dividendo, di conseguenza c'è il gap lasciato aperto post stacco che è 21,1 però io adesso devo dire che oggi ho visto il titolo piuttosto venduto anche dopo l'apertura quindi aspetterei almeno 17,20, 17 se non 16,20 però non vi nascondo che mi fa molto paura, molta paura perché adesso avendo dato il secondo dividendo importante in un periodo relativamente breve, non a distanza di anni, sinceramente è un po' una scatola vuota, cioè le rimane poco e adesso magari volete scrivermi nei commenti, io non ho potuto verificare dopo quest'ennesimo stacco anche la cassa immagino sia diminuita sensibilmente. GoInternet ve la faccio vedere però vi avevo già detto che è un titolo da evitare essendoci pochi le obbligazioni convertibili e vedete che anche oggi ha fatto meno 8 con 215 mila pezzi. Allerion, ecco veniamo ad Allerion, Allerion io avevo il titolo nel portafoglio della newsletter finanziaria, fortunatamente lavorando con i pesi era un peso di solo il 3% del capitale però ammetto che è stato un brutto loss ed è vero che poteva fermarsi a 25,6 però se metto un time frame settimanale non posso escludere che il titolo possa tornare anche a 23,7 se non a 22,7. Mondo TV vi avevo già detto che la vedevo un po' col fiato corto e oggi purtroppo mi conferma la rottura della media mobile a 200, 0,52 a rotondo e anche della media mobile a 50, 0,504 per cui vedo il titolo per le prossime sedute prima sulla media mobile a 100, 0,4725 e poi su questo minimo del 14 aprile 0,4515. Adesso veniamo a meglio questo che in effetti fa un meno 4,46 meccan dell'inside per cui non è ancora un segnale così negativo, anzi vi ho detto che vedo prima il titolo in area poco sopra area 1 e poi fino a 1,20. venduta invece orsero e qui il segnale è piuttosto brutto perché vedete che vengono rotti i minimi di periodo e ormai l'impostazione tecnica è per andarsi probabilmente a cercare almeno questo 12 e 16, 12 e 18 e poi più probabilmente ancora 11 e 56, 11 e 54 e poi 11 e 30 per cui particolare attenzione per orsero. Juventus ha perso questa sfida importante ieri con Napoli in casa, sicuramente c'è ancora in discussione la penalizzazione di 15 punti che è stata restituita ma non è detto che non venga nuovamente penalizzata e graficamente deve tenere 0,33. Poi abbiamo sì un minimo a 0,32,2 del 3 di aprile, poi abbiamo le medie mobili più o meno in sequenza tra 0,32,1 e 0,31,4 e poi abbiamo un target finale di questo movimento direi fino in area 0,30. Ecco è stata venduta abbastanza bene anche PRL oggi, PRL che è un titolo da trading range però adesso sta andando a cercarsi la parte bassa del range per cui per domani primo target direi 16,70, 16,80 e poi direi questo 0,1624 minimo del 26 di settembre. Vedo che anche Tesselis è stata venduta, ha fatto un meno 3,74, vedo il titolo poter ritornare almeno a 0,5456. Vediamo adesso qualche altra società che abbia fatto un minimo di scambi. Shader è importante che ve la mostri perché chi fosse in posizione dovrebbe monitorare questo 4,78 come stop profit per non rivedere il titolo in area 4,40. Per il resto ci sono stati ancora altri titoli che hanno perso molto ma abbastanza con volumi modesti per cui direi che possiamo salutarci qui per questa sera e vi aspetto però tutti domattina nonostante essere il 25 aprile io sarò presente prima dell'apertura del mercato diurno perché quando il mercato è aperto chi vive di trading a meno che non abbia impegni improrrabili deve essere sul mercato perché ogni giorno ci può essere qualche occasione interessante. Buona serata a tutti!